sappiamo tutti che ridere fa bene alla salute vero allora sentiamo adesso una bella barzelletta per ridere un po un altro video della serie ridere fa bene ma chi è lei? cosa ci fanno il mio letto? e vai con i grandi interrogativi questo è un altro video della serie ridere fa bene guardateli tutti per stare bene in salute saluta a tutti i fratelli e parenti del canadà fatemi bene e ci vedremo in un'occasione è vero ci sarà un'occasione prima o poi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti